E' partito il diciottesimo corso di tecnici di quarto livello del CONI, sono stato un ex corsista, è un corso fantastico, essere qua a fare da relatore in rappresentanza della Commissione Nazionale degli Atleti e a dimostrazione delle importanti sinergie che ci sono all'interno del mondo sportivo, non solo fra atleti e tecnici ma di tutte le componenti.